Vuoi essere fashion con i tuoi amici? Vuoi dire io ho la limousine con la minigun? Cosa aspetti? Prendi questa minigun con una bellissima torretta Una minigun con una bellissima torretta Attenzione però sappiamo che un sacco di gente ha fatto questo tipo di video E che cazzo ci fa Tonila vabbè? Però non ce ne fotte un cazzo Intanto questa è la nostra opinione Quindi andate bene tutti a fare in culo Ok? Non dici niente ma la nostra opinione Ma il cambio è oggettivo Mi dispiace se dite che non è vero Andate a far culo Poi l'altro concordiamo Quindi ragazzi Vi lascio il video con i peggiori acquisti Secondo noi che potreste fare E poi se lo vedete Sono tutte macchine Sono tutto quanto macchina Aereo Altre cose Cose veramente inutili Che non ne avete bisogno Cristo Vi consiglio di andarvi a vedere Il trucco per vincere sempre la macchina Sul mio canale Quella del casino Assicurato Assicurato Un milione e cento e settantacinque mila dollari Questa bellissima macchina Ragazzi Una bimbo di merda Che costa un milione e cento e settantacinque La macchina Che costa un milione e cento e settantacinque Questa macchina è veramente splendida Invece che di prendervi l'azienda intorno scontata A 290 mila dollari Eccomi qua Una delle macchine più buone In assoluto Di schifo Sette il gioco Eccola A un milione e cento e settantacinque mila Tutta vostra Rockstar Grazie per questa macchina Ma non parliamo solamente di questa Si fa Anche della bellissima Lampadati Guardate ragazzi Che bellissimi fari Si saranno fatati E' quella canto E' quella canto Ha minchiato Il mare in fegio 608 mila Questa fantastica macchina Modificabile Diventerete I più ricchi d'Italia 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 Che ha offerto su GTA All'incredibile prezzo Di un milione e cento e novantamila dollari Soprattutto Compratelo C'è anche la malla Il colore che palle Produzione Perfetto E questo che palle E questo che palle Vi renderà la vita su GTA perfetta Per volare Oltre che si gira Peggio Di una tarta ruga Di un bradico Ma veramente Ma l'ho provato per fare una missione Del nightclub E si gira che manco Un bradico in calore Cazzo Manco dieci bradici Messe insieme Tutti aggrovigliati Quindi Tutti si muovono così piano Se un vostro amico Vi ha fatto incazzare E voi dite Ma che palle che sei Comprate che palle Così ne lo fate ricordare Quanto sta sul cazzo per voi Eccolo qua Ognuna che palle Che palle a prezzo di un milione e cento e novantamila Trecentocinquanta dollari Cosa aspetti Il prezzo più conveniente per te Da Rockstar Questi sono dei nostri pareri Ma che cazzo ci devi fa con sto coso Cioè a meno che Ti puoi guarda Guarda C'è il manubrio di dietro Tipo A meno che ce l'hai grosso L'account modato Ma che cazzo Che gli verrebbe un sano di mente di comprare sta cosa Sto coso enorme Ma che cazzo Vabbè Puoi guardarti con i tuoi amici Che cosa aspetti Devi dire solamente C'ho la moto grossa Da parte di Rockstar Compra E ordinarla Compra 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 Grossa Ah non c'è dollari Che culo Essere fashion Con i tuoi amici Ecco a te La bellissima Limousine Con torretta Una limousine Che veramente Ti farà Giocare bellissimo Con i tuoi amici Nelle missioni Vabbè Il costo è di 1.650.000 Ma siccome noi siamo tutti ricchi Su GTA Guardate quanto sono ricco io Cioè guarda L'acquisto Ah non tengo i dollari Eh vabbè Posso capitare Vabbè Ma comunque nel garage Dovete avere almeno Una limousine Una limousine con torretta Perché se no Siete veramente Ti coglioni E' fatta la vada a bere Cioè La limousine La limousine E' principale Dello 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 Qua Uno Un acquisto fantastico Che Io lo tengo Un cazzo di camion Da 2.240.000 Verde e bianco Ma che Che mi significa Ma che cosa c'ha Torretta Solo per voi Che cosa c'ha Blindata Non so se voi Che poi si può distruggere Sparando di dietro Si può distruggere E poi invece di questa cacata C'è il Nike Sciale Affidabile E antiproiettile C'è una finestra C'è una Allora Al posto Della finestrino C'è una cazzo di finestra Cioè tu ci spari Il colpo Ti arriva in testa Ti arriva Quando ti spari Ti arriva Funzionale Affidabile Antiproiettile Praticamente Non gli manca nulla Sì La minigun La torretta Per comprare sto coso Oppure che ne so C'è scusa Tu rockstar Mi fai prendere sto coso Senza limo Senza torretta E poi No limo Ti ripone C'è senza torretta Senza minigun Senza lanciarazzi Però vuoi comunque È blindato È fortissimo E se mi spaccano la ruota Testa di culo Come faccio Vabbè E che ne sai Se non hai blindato la ruota Sì pure la ruota Vabbè Vabbè Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al mio canale A quello di Shadow E Ciao